Inizia la seconda stagione con l'arrivo di Xavi Simons che si è preso la numero 10. Jerry Cardinale ci fornisce 80 milioni da spendere per il calcio a mercato. E come anticipato con la nuova stagione arrivano anche le nuove maglie che vedrete tra poco. Prima di tuffarci sul mercato il presidente ci dà i nuovi obiettivi per questa stagione che saranno quelli di confermarci ancora con la vittoria dello scudetto, vincere la Coppa Italia e cercare di arrivare in fondo in Champions League arrivando almeno in semifinale. Sicuramente non sarà facile fare meglio dell'anno scorso soprattutto perché 80 milioni non sono tantissimi. Tra l'altro sono rientrati in squadra tanti giocatori e dovremmo decidere chi tenere e chi invece vendere. Ho provato a confermare Ebrahim ma il Real non ce lo vuole ridare mentre il Barcellona ha accettato di prolungare il presito per Dest. E Dest ha accettato di tornare da noi quindi avremo il terzino di riserva a gratis. E purtroppo arriva una brutta notizia se fatto male Pierino che salterà all'inizio di stagione ora dobbiamo andare su un nuovo difensore centrale. I due giocatori che farebbero al caso nostro sono Simakhan e Indyka. Entrambi i francesi, entrambi i giocatori cercati dal Milan Simakhan prima che andasse all'Ipsi. Indyka anche ultimamente è un giocatore seguito da tutte le squadre essendo in scadenza. Costano praticamente la stessa cifra, Indyka forse un pochettino di meno. Hanno la stessa età, sono entrambi i francesi. Forse preferisco Indyka perché è un giocatore che è piede mancino e la nostra squadra ci manca. Proviamo a fare una prima offerta da 40 milioni al Siviglia. Vogliono a Kim Ziyech, mi sembra un po' too much. E alla fine hanno accettato 40 milioni. Ci chiede praticamente il doppio di quello che prende al Siviglia. Glielo possiamo offrire tranquillamente per quello che sarebbe tecnicamente il nostro secondo acquisto dopo Xavi Simons. 66 mila settimana, non è un grosso problema. Ci sarà concorrenza in difesa ma accettiamo e diamo il benvenuto a Evan Dika che sarà un muro per la nostra difesa. Sul fronte uscita abbiamo venduto Florenzi per 17 milioni allo United. Il Sorrentino è dato in prezzo dalla Stonville, Aurighi per 14 milioni e mezzo all'Atalanta e abbiamo anche dato via Messias per quasi 9 milioni. E con la cessione di Aurighi l'attaccante di riserva che voglio è Noah Okafor che ora sta a Lione, non costa tantissimo e secondo me potrebbe essere perfetto come attaccante di riserva. Provo a fare una prima offerta da 15 milioni più che al Dara che non vogliono, vogliono Xavi Simons, mi fanno sempre queste controfferte clamorose. Proviamo quindi ad offrire 17 milioni, vediamo cosa dicono. No, troppo bassa. Vediamo se riprovarci tra una settimana o andare su qualcun altro. Nel frattempo vorrei fare un colpo a centrocampo e il primo giocatore che vorrei puntare è Renato Sanchez che sta giocando poco al Paris Saint Germain e quel poco che gioca non sta facendo bene. E un altro grandissimo giovane che non sta facendo bene quest'anno al Bayern Monaco è Ryan Gravenberge che ha ancora 21 anni e un 81 di overall. Costa tanto ma voglio vedere se per caso me lo danno in prestito. Se accettano, hanno accettato. Vediamo se riusciamo a prenderlo magari in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un grandissimo colpo giovane in linea con la nostra, diciamo, dirigenza, con quelli che sono i nostri obiettivi. Proviamo quindi il prestito con diritto di riscatto. Vediamo, hanno accettato e questa sarebbe veramente una grandissima trattativa. Proviamo due anni in modo da tenerlo sicuramente senza pagare niente per due anni e poi vedere un po' cosa dicono. Vogliono soltanto un anno giustamente. Comunque accettiamo. Ci chiedono 65 milioni per il riscatto. Tra un anno sono tantissimi soldi con il 10%. Puntano tanto sul giocatore. Ma io sinceramente accetterei perché secondo me può essere un grandissimo colpo. Ripeto, low cost e che almeno per un anno può darci tanto. E Gravenberge ha accettato di mierda a noi. Si è preso la numero 18 e questo è un grandissimo colpo. È passata una settimana quindi proviamo ad offrire sempre 15 milioni. Questa volta più l'Aztic che tanto non utilizzerò mai. Non vogliono l'Aztic ma vogliono Tio più 20 milioni. Mamma mia quanto chiede il Lione. Togliamo ovviamente Tio e andiamo con 20 milioni secchi. Vediamo un po' lui vale 21 e mezzo. Un pochettino bassa come offerta. Ma almeno ditemi quanto volete. 34 milioni ragazzi. Sono veramente tanti per un attaccante di riserva. Per Okafor e quindi andiamo su qualcun altro. Un'alternativa sempre dalla Liga potrebbe essere Openda che è un giocatore che mi piace veramente tanto. Belga e che al Milan ci vedrei molto bene. Le alternative sarebbero Beto che costa tanto. Muko Ko che non lo so quanto sarebbe realistico vederlo al Milan. Al Brighton ovviamente gioca titolare. Openda invece secondo me è il giusto compromesso. Un giocatore comunque molto rapido. Può giocare anche sulla fascia. Ottima finalizzazione. Anche in questo caso provo ad offrire l'Altic più 16 milioni. Lenz credo che l'Altic potrebbe usarlo. No. Trattativa ad un punto morto. Però Openda secondo me è il giocatore giusto per noi. Ci serve anche un'altra alla di riserve. Contattiamo il Bruges per Noah Lang. Che il Milan voleva tanto. Vale 30 milioni. Che però secondo me sono un pochettino tanti. Proviamo una prima offerta da 26 milioni. Comunque tanti soldi per lui. Dobbiamo ancora fare l'attaccante. Quindi non voglio spendere tutto il budget. Vogliono sempre Xavi Simon. Se è appena arrivato. Non ve lo do. E andiamo con 27 milioni. Alziamo un pochettino l'offerta. Vediamo che dicono quelli del Bruges. 38 milioni. Tutti che chiedono tanti soldi. E andiamo con 30 milioni. Vediamo se riusciamo a chiudere con questa cifra. Non credo che accetteranno. Perché 8 milioni sono comunque tanti. E hanno bisogno di un pochettino di tempo. Vediamo un po' cosa diranno. Molto bene. Hanno accettato i 30 milioni. Andiamo a trattare col giocatore. E chiudiamo questa trattativa. Vi offriamo un ruolo turno. Avertrane di contratto. Vuole tanti soldi. Ha accettato però i 68 mila. E quindi diamo il benvenuto anche a Noah Lang. Che dopo due anni arriva finalmente al Milan. E con l'acquisto di Open Day. Qualche altra cessione. Si chiude il calcio mercato. Secondo me è positivo. Abbiamo rafforzato la rosa. Datemi un voto. Da 1 a 10 al calcio mercato. Ed ecco qua le nuove maglie per la prossima stagione. Partiamo con quella in casa. Con la seconda stella. Con lo scudetto. È una maglia che in realtà non ho inventato io. Ma è la maglia che è stata liccata. Che dovrebbe essere quella della prossima stagione. Devo dire che mi piace veramente tanto. Ho mantenuto gli stessi sponsor. Molto più rossa rispetto a quella di quest'anno. Ed è una cosa che sinceramente preferisco. Con i calzettoni neri. Con questo dettaglio. A C Milan davanti. Devo dire che per me è una maglia da 8 tranquillamente. Questa invece dovrebbe essere la seconda maglia. E ricorda una maglia veramente storica. Dell'ultimo decennio. In realtà di più di 10 anni fa. L'anno dell'ultimo scudetto. È una maglia molto bella. Particolare. Devo dire che anche questa maglia qua. Mi piace veramente tanto. Bianca. Abbastanza pulita. Però non proprio bianca e basta. Rispetto a quella degli ultimi anni. Forse mi piace anche di più. Questa invece è la terza maglia. Che assomiglia tanto a quella del Napoli. È una maglia che si ispira a una maglia storica. Del 95-96. Un po' più rossonera. Un po' rivisitata. Però devo dire che mi piace tanto. Ora che lo sto vedendo in game. Mi assomiglia molto alla maglia del Napoli. Però mi piace veramente tanto. Ditemi che voto date a questa maglia. Ma anche per me questa qua. È un 7 e mezzo abbondante. Per chiudere vi mostro anche la maglia del portiere. Di Magnan. Maglia carina. Classica. Senza troppi particolari. Sul violetto. Un po' con una texture particolare. Una maglia. Ripeto. Normale. Però per un portiere ci sta. Inizia quindi il campionato. Inizia con una vittoria fuori casa. Contro il Torino. Con doppietta di Columoni. Che parte a razzo. È uscito anche il girone di Champions League. E secondo me ci è andata veramente bene. L'obiettivo ovviamente è vincere questo girone. Vinciamo anche la seconda giornata. Col primo gol in rosso-nero di Open D'A. Chiudiamo l'ultimo giorno di mercato. E definitivamente questa sessione di mercato. Che è stata veramente veramente ricca di colpi. Abbiamo una rosa adesso assolutamente di livello. A vedere anche tutti questi giocatori in nazionale. Fa capire quanto siamo veramente forti. Abbiamo migliorato tanto la panchina. Abbiamo una rosa. Che non vedo l'ora di utilizzare quest'anno. Perché secondo me anche tra le riserve abbiamo giocatori. Che saranno divertenti da usare. E la nostra prima partita giocata sarà nel derby contro l'Inter. Dumfries per l'Inter. Occhio a Martial su di lui, Teo Hernandez. Passano molto bene con anche il vantaggio. Occhio Dumfries che potrebbe metterla in mezzo. Non lo fa come recupera bene Teo. È diventato il miglior terzino al mondo. Occhio a Rafa. Mamma mia che giocata di screener. Che è rimasto all'Inter. Almeno in questa carriera. Dumfries l'alza su Anthony Martial. Che ora gioca largo. Occhio a Martial. Lo tiene molto bene Tomori. Arriva anche Dumfries la scodella in mezzo. C'è Indicabra. Vissimo di testa. Ziyech. Tonali. È iniziato da poco il secondo tempo. Dobbiamo cercare di sbloccare questa partita. Teo Hernandez. Deve spingere sulla fascia. È passato Teo. Occhio che può mettere dentro un bel pallone. Troppo su Anana. Dobbiamo trovare un'altra via di sbocco. Bravo Sandrino. Che ha anticipato con il piede. Poi Calabria subito su Ziyech. Mamma che palla per Columoni. La tocca per De Keteloro. Grandissima azione. Partita dalla grande giocata di Hakim. Segna De Keteloro. Il primo gol di questo derby. Occhio all'Inter che vuole reagire. Palla su Dumfries. Deve fermarlo. Bravissimo. Andika. Poi Teo Hernandez non riesce a prenderla. Ma ancora Andika con la testa. Quindi Columoni. La palla non arriva a Rafa. Ancora i nero azzurri. Con Dumfries che la tocca in mezzo. C'è ancora Andika. Che sta facendo veramente, veramente una grande prestazione. Columoni. Occhio che sono sbilanciati. Può imbolarsi verso la porta De Keteloro. Chiudere la partita. De Keteloro. L'ha presa male col mancino. Mi sono mangiato il 2-0. Facciamo dei cambi. Dentro Noah Lang. Simons come trequartista. Mettiamo dentro anche Gravenberge. E butto dentro anche Serginio Dessu la sinistra. Ancora l'Inter alla ricerca dell'1-1. Dumfries è passato molto bene. Palla dentro. Segna Marziale. Al 78esimo. L'Inter la pareggia. Gravenberge. RafaLeau. Subito su Xavi Simons. Uh, è partito RafaLeau. Non una bella palla di Xavi Simons. Ma arriva su Serginio Dess. Che deve sterzare. Aspettare. Gravenberge. Tocca su Xavi Simons. Potrebbe tirare. Ah, non la gioca bene. E nessun all. Occhio all'Inter. Che ora riparte. Vogliono ribaltare la palla. Verso Anthony Marziale. Fallo di Tomori. Che ci può stare fuori dall'area. Cartellino giallo. Andava speso questo fallo. Ma ora c'è un calcio di punizione pericoloso. Nel frattempo esce Colomuani. Entra Open Da. Calcio di punizione. Che lo batte Barella. Forse c'è un golone più in campo. Va col pallone in mezzo. Mandicala. Prende di testa. Occhio adesso a Xavi Simons. Può andare verso la porta. Su di lui Skriniar. Ma Xavi Simons è più veloce. Vai Xavi. Vai Xavi. Chiubete in qui di questo derby. Xavi Simons sta arrivando. Nanna pallonetto. E se ne lascia Xavi Simons. Vinciamo il derby di Milano. Con un gol del numero 10. Che segna il novantesimo. E ci porta a 9 punti. Primi in classifica. E vinciamo il primo derby dell'anno. Inizia anche la Champions League. Contro il Newcastle del ricchissimo fondo saudita. De Ketelar. Allarga il pallone verso Teo Hernandez. Dentro c'è Rafa Leopo. Toccarla ancora su Teo Hernandez. Va verso il fondo Teo. La tocca dentro. Anticipo del difensore che rischia l'autogol. Provano a ripartire. Bravo Kalulu. Che però qua non attentissimo. È rientrato proprio in questa partita da un lungo infortunio. Ancora deve forse prendere ritmo partita. Dall'altra parte c'è Colomoni. Gran palla per lui. Colomoni addosso a Pop. Caccia di punizione per loro. Di testa lottiamo. Ricopriamo anche il pallone. Ma qua Tonali non riesce a vincere il contrasto. Occhio a loro. Bravo Maignan. Calabria. In mezzo da Sandrino Tonali. Uh c'è Colomoni. Gran palla di Tonali. Mamma mia che palla e che gol di Colomoni. 1-0. Angolo per le Magpies. Sul primo palo. Gran stacco di Teo. Occhio adesso a Noah Lang che appena è entrato. È fresco. Su lui target che non credo sia più veloce di Noah Lang. Deve entrare però dentro il campo. Aspettare qualcuno. Sta arrivando Colomoni. La palla in qualche modo arriva a Xavi Simons. Allarghiamo da Teo Hernandez. Vai Teo Hernandez. Verso la porta. C'è sul secondo palo. Colomoni che a porta vuota non può sbagliare. 2-0. Doppietta. Ancora per Colomoni. Occhio il Newcastle che potrebbe rientrare in partita. Segnalo alla fine della partita. Il 2-1. Era un gol che potevamo certamente evitare. Ma finisce qua. Vinciamo 2-1 l'esordio in Champions League. Dopo questa vittoria siamo primi nel girone. Ma non solo. Perché siamo primi anche in campionato in solitaria. E niente ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Arriviamo a mille mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi. Avete dato la campanellina. Qua a schermo vi lascio altri video che potrebbero piacervi. E a questo punto noi ci vediamo con il prossimo episodio. Qui da IAS è tutto. Ciao a tutti ragazzi.